Il giardino pubblico ai ponti porta un nuovo nome ed è quello di Silvano Nano Campeggi. Sulla targa dedicata al grande artista un ricordo del pittore che ha disegnato il cinema di Hollywood. Un modo anche per tenerlo qui insieme a noi e tenerlo qui in questa che è una delle parti più vive, dedicata ai bambini della nostra comunità. Quindi Nano è come averlo con noi e questo riempie davvero tutta la comunità di Bagnaripoli di Gioia. Durante il pomeriggio premiati anche i giovani artisti di età compresa tra i 3 e i 10 anni che si sono sfidati in una speciale gara di disegno. Speriamo che qualcuno di questi ragazzi abbia la passione perché poi è una cosa bella che rimane indipendentemente da quello che uno può fare nella vita. Anche magari non so come chi suona uno strumento musicale, la passione dell'arte è qualcosa che sicuramente ti arricchisce. Nano è arrivato dove è arrivato perché è rimasto bambino. L'entusiasmo del bambino se l'è portato dentro di sé fino alla fine. Il suo non era un lavoro, era un divertimento. Aveva quell'arguzia, quella voglia di fare che soltanto i bambini hanno. Grazie.